Nella giornata nazionale dedicata alle vittime del Covid ad Andria si avvia il progetto dell'amministrazione comunale in collaborazione con Lega Ambiente e la Fondazione Gucci per il Bosco della Rimembranza. Sarà un giardino, un luogo di accoglienza e di memoria quello che sorgerà nel quartiere San Valentino ad Andria, nei presi della scuola Salvemini in via Comuni di Puglia, per ricordare in particolare le vittime di Covid-19. E l'annuncio viene dato proprio nella giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid dal sindaco di Andria Giovanna Bruno. Andria ne ha contati circa 400 e il dolore di quelle perdite in termini di vite umane è ancora molto forte e vivo. L'amministrazione ha istituito con una delibera di giunta l'idea di affidare ad un parco della memoria quelli che sono i nomi delle nostre vittime andriesi, che sono davvero tante. Inizialmente quando ci abbiamo pensato eravamo a numeri ancora più bassi, invece purtroppo i numeri sono incredibilmente aumentati e quindi immagineremo col tempo che ogni albero magari raggruppi un periodo della pandemia, che ancora oggi ha degli strasci, che abbiamo anche individuato nel quartiere San Valentino il luogo giusto per ospitare questa idea di memoria, perché durante la pandemia il quartiere di San Valentino ha avuto, suo malgrado, la possibilità di essere conosciuto maggiormente per la locazione del lab vaccinale. E in quel suo malgrado c'è stata la possibilità per tanti invece di rendersi conto di quante potenzialità il quartiere abbia. Quindi stiamo facendo delle continue operazioni di cucitura, ma soprattutto di vitalità di questo quartiere. Il Bosco della Rimembranza, così sarà chiamato, sarà realizzato e curato sulla scorta di un patto di collaborazione tra il Comune di Andria e il Circolo Cittadino di Lega Ambiente e Tomass Ancara. E rappresenta uno degli obiettivi sociali legati alla presenza del gruppo Gucci, che a maggio 2022, in occasione della sfilata a Castel del Monte, decise di finanziare alcuni interventi di responsabilità sociale. In quell'occasione la Maison ha assegnato risorse economiche ad alcune associazioni, tra cui appunto il Circolo Cittadino di Lega Ambiente, finalizzandole in questo caso la realizzazione di un bosco urbano. Nelle settimane successive, a maggio 2022, il Circolo ha poi chiesto l'assegnazione di un suolo che l'amministrazione comunale ha individuato appunto nel quartiere di San Valentino. L'idea generale è quella di creare qui un giardino, proprio perché essendo un'area destinata a ricordare, diciamo, degli eventi traumatici, tragici per la popolazione, quindi l'idea è quella di creare un'area che sia proprio bella da vivere e quindi preferiremo, diciamo, a discapito di piante autotone, delle piante comunque, insomma, in grado di adattarsi al nostro clima, ma che ci garantiranno, per esempio, delle fioriture costante durante tutto l'anno, comunque un ambiente bello da vivere, bello da vedere, proprio in ricordo, diciamo, di un evento che comunque è drammatico, è stato drammatico per la città.